Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Un conflitto a fuoco tra una banda di rapinatori e agenti della polizia avvenuto alle porte di Avellino nel piccolo centro di Cesinali è costato la vita a uno dei malviventi, tutti originari del Foggiano. Sei persone a bordo di un furgone, di due auto, una Jeep e una Panda, sono stati intercettati a Cesinali. Il gruppo era tenuto sotto controllo da parte degli agenti delle questure di Foggia e Chieti. La banda era infatti sospettata di aver pianificato una rapina nei confronti di un portavalori. Intorno alle 20 e 30 di ieri sera sono stati intercettati sulla strada provinciale del territorio di Cesinali e all'alte degli agenti hanno risposto sparando. Nello scontro a fuoco che ne è seguito, uno dei rapinatori è rimasto ferito mortalmente ed è stato abbandonato in auto da suoi compagni che sono fuggiti. Tre dei presunti rapinatori si sono arresi e consegnati agli agenti della squadra mobile di Avellino, mentre altri due si sono dati alla fuga a bordo di un'auto disseminando chiodi a tre punte lungo le strade della frazione alle porte di Avellino. I poliziotti sono comunque riusciti a catturarli vicino al cimitero. I componenti della banda, secondo quanto si è preso, sarebbero tutti originari di Foggia. Con ogni probabilità, viste le tecniche usate, si tratta di persone specializzate negli assalti a portavalori e cavò, una tipologia di rapine che solitamente mettono a segno gruppi di Cerignola e dei paesi del nord barese, spesso in trasferta anche nel centro e nord Italia. La prima allerta è arrivata dalla questura di Chieti, dove negli scorsi giorni erano state rubate le vetture utilizzate per tentare l'assalto. 346 anni e 4 mesi di reclusione è quanto il sostituto procuratore della DDA di Napoli, Henry Woodcock, ha chiesto complessivamente nei confronti delle persone imputate nel processo con il rito abbreviato sulle infiltrazioni dei clan negli appalti di diversi importanti ospedali napoletani, un'indagine nella quale il magistrato è affiancato dai colleghi Celeste Carrano e Francesco Raffaele. Le richieste, che variano tra i 18 e i 4 anni di carcere, sono state formulate dal magistrato davanti al GUPAN imparato al termine della sua requisitoria. Lo scorso 1 aprile, i PM chiesero il rinvio a giudizio per 48 indagati, tra i quali figurano i vertici di alcuni importanti clan partenopei, come il boss Luigi Cimmino e anche diversi funzionari dei più importanti ospedali di Napoli, come il Cardarelli, l'azienda dei Colli e il nuovo Policlinico, tutti facente parte nel processo delle parti offese. Una quarantina hanno scelto il rito abbreviato, come lo stesso boss Cimmino e il figlio per il quale sono stati chiesti rispettivamente 9 e 14 anni di carcere. Gli arresti invece, eseguiti dalla polizia, risalgono al 22 ottobre del 2021. Nel mirino degli inquirenti finirono le gare d'appalto nei più importanti ospedali della città, riguardanti tra l'altro la ristorazione, i distributori automatici, le pulizie e la sanificazione. Il diritto alla salute è sempre meno uguale per i cittadini in tutta Italia. La sua effettiva esigibilità dipende da dove si nasce o da dove le condizioni economiche e sociali portano un cittadino a vivere. In tal contesto, in regione Campania esiste un servizio pubblico, quello relativo alla riabilitazione, ormai da anni esclusivamente garantito dai privati per circa il 97% delle prestazioni. Un settore nel quale da tempo, ma soprattutto negli ultimi giorni in maniera drammatica, è presente l'odioso fenomeno del dumping contrattuale. Un fenomeno per il quale, nel garantire un servizio pubblico, professionisti e operatori che effettuano le stesse prestazioni possono percepire retribuzioni con differenze anche del 40% ed una perdita di diritti consistenti. Molti imprenditori, di quelli che hanno convenzioni con il pubblico, utilizzano contratti sempre peggiori per le lavoratrici e i lavoratori del settore, al fine di aumentare il profitto abbattendo i costi del personale, ancora meno giustificabile in un settore caratterizzato dagli utili da anni in crescita. Alfredo Garzi, segretario CGL Funzione Pubblica Regionale Area Metropolitana di Napoli, annuncia nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sede della CGL lo sciopero generale il prossimo 18 ottobre con un presidio davanti la regione Campania. Noi vogliamo che non si possa, in un sistema di accreditamento regionale che sia attento alle regole e ai diritti anche dei lavoratori, non si possa cambiare così il contratto di lavoro, ma che il contratto di lavoro di riferimento debba essere quello maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale rispetto al quale nel sistema di accreditamento vengono calcolati i costi. Perché questo è un altro grande problema. Perché se io do un accreditamento facendo applicare un contratto che ha un certo tipo di costo, se poi quel datore di lavoro cambia il contratto e diminuisce i costi, sta in realtà mettendo in piedi una sorta di truffa rispetto alla collettività. Perché prende un accreditamento dichiarando che ha un costo X e poi ad un certo punto il suo costo viene X meno. Allora noi chiediamo che la regione faccia il suo lavoro rispetto al sistema degli accreditamenti. Abbiamo chiesto più volte che in una regge regionale venga individuato questo criterio come criterio di accreditamento, che non si possa fare questo giochetto. Ad oggi la regione non ha risposto positivamente. Anche per questo lo sciopero del 2018 si terrà sotto la regione. La pandemia, la crisi del gas, la guerra della Russia contro l'Ucraina, la crisi climatica. Non tutti sono stati colpiti allo stesso modo. Sicuramente le donne hanno pagato il prezzo più alto. E proprio da questo assunto partono le motivazioni che hanno portato alla creazione dell'associazione Oro Muto Onlus, promotrice della prima edizione della serata di beneficenza WOM, acronimo di Women of Naples, il gala. Chi ha di più ha il compito di darsi da fare, perché è stato colpito in maniera più violenta da questi anni difficili e questo è l'obiettivo dell'evento. Oro Muto ha deciso di dedicare il gala, un progetto speciale, alla raccolta fondi per finanziare le prime 5 imprese femminili campane in quartiere difficili, che vorranno essere supportate nella loro nascita e a creazione con un mix di sostegni. Il WOM Gala si è tenuto lo scorso 12 ottobre al Palazzo Reale di Napoli. La presidente della Onlus Oro Muto, Amalia Giordano, il socio fondatore Gennaro Bottigliero. Si celebra il WOM Gala, un gala finalizzato al consentire alle donne di raggiungere i loro sogni, sogni che molto spesso la realtà purtroppo non consente. Anche per raggiungere un semplice bando servono determinate conoscenze, servono determinate possibilità e noi con la serata di stasera vogliamo mettere a disposizione di qualsiasi donna che si trova in difficoltà queste possibilità. Basti pensare che purtroppo durante il Covid su 100 persone, 73 che perdevano il lavoro erano donne, quindi per noi è importante che questa serata possa aiutare la maggior parte di persone possibili. Stasera siamo qui dopo tanti sacrifici per questa serata di beneficenza WOM Gala dove premeremo le aziende vincitrici, già virtualmente aziende perché con una serie di sostegni economici e in servizi riusciremo a far partire nuove realtà imprenditoriali al sud al femminile. Oltre 2000 atleti attesi in gara nel weekend, 28 paesi di tutto il mondo rappresentati, 4 prove per vivere Napoli senza auto e nella sua più straordinaria bellezza un villaggio dedicato allo sport e alla nutrizione. Sono solo alcune delle prerogative della seconda edizione della italiana assicurazione Neapolis Marathon, la competizione che domenica porterà nella città di Parteno per la sfida sulla distanza di 42 chilometri e 195 metri. Una gara, quella promossa dalla SSD Neapolis Marathon che ancora una volta ha colto nel segno in termini di iscrizioni. Non solo maratona infatti nel programma di domenica ma anche una mezza maratona e la gara non agonistica. A parlarci dell'evento Maurizio Marino, presidente della SSD Napoli Marathon. Nell'ambito sportivo abbiamo tre tipi di manifestazione che partiranno tutti insieme, abbiamo al momento qualcosa in più di 2000 iscritti, partiranno insieme per fare un giro partendo da piazza per il Biscito e dirigersi verso il lato Mergellina per poi ritornare sul lungomare, naturalmente nella zona transitabile perché abbiamo anche un grande evento al quale facciamo i migliori auguri che è il torneo ATP 250 Napoli e proseguiamo naturalmente verso l'altro lungomare della via Marina dove prima riusciremo a passare per il Molo San Vincenzo, che è un luogo non transitabile ma che ora con la convenzione col Comune Napoli sarà tra poco ripresa naturalmente per il Molo turistico e anche per le passeggiate come già stanno facendo per noi cittadini. Proseguiamo fino alla seconda rotonda, nessuno escluso la rotonda volta, si ritorna dietro naturalmente nella zona della corsia preferenziale per arrivare poi in via De Pretis, poi ci facciamo una parte del Corso Umberto, ritorniamo su piazza Municipio e si arriva a piazza del Biscito dove ci saranno i 21 chilometri per coloro che fanno una mezza maratona, coloro che hanno la forza e il coraggio proseguono per fare la maratona quindi è un doppio giro, il tutto è progettato per consentire di non chiudere tutta la città ma una parte della città in un unico giro da raddoppiare per i maratoniti. La presentazione della manifestazione nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede della Camera di Commercio di Napoli alla presenza del Presidente Ciro Fiola. Un altro grande evento, ne parlavamo anche ieri sui giornali come l'evento del tennis e tanti altri eventi come le fiere insomma una Napoli che risorge dopo la pandemia, c'è bisogno di questi eventi per portare turisti se chi visita il centro vede che la città è piena di turisti ma non solo il centro della città anche le periferie laddove insistono gli alberghi oggi sono tutti pieni. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie.